Buonasera, grande partita per Varese, una grande vittoria per noi, per i tifosi, per la città, per la società e per la squadra. Sono molto contento. Sì, vediamo sabato sera a Palazzetto con Reggio Emilia. Grazie. Prima partita, una stella per noi e due stelle per Pesaro. Noi siamo molto arrabbiati dove vincere, ho fatto una grande partita con Cantù. Adesso ho fatto una grande partita con Cantù, ma gioca bene nel secondo tempo. Noi vogliamo vincere. La squadra ha fatto un molto buon lavoro stasera, molto contento. Andiamo così.